Numeri finalmente in calo. I casi di contagio da coronavirus registrati nella provincia di Barletta, Andrea, Trani nel periodo compreso tra il 10 e il 16 di aprile sono 871. Nei sette giorni precedenti erano stati 1.200. Stabile invece il numero dei decessi. Quelli registrati nella settimana appena trascorsa sono 13 a fronte dei 14 emersi nel periodo compreso tra il 3 e il 9 aprile. Numeri stabili nei 10 centri che compongono la provincia. Dopo settimane di aumento cala il dato di Andria. I casi attivi nel centro federiciano sono 783, quelli comunicati il 6 aprile erano 839. Invariato il dato di Barletta, città nella quale si resta con i 630 casi attivi comunicati il 9 di aprile. Al 7 aprile risale invece l'ultima comunicazione ufficiale del sindaco di Biceglie Angelo Antonio Angarano che in tale data parlava di 375 attualmente positivi presenti in città. 269 sono invece i casi attivi a Trani, un numero pressoché invariato rispetto ai 244 dei sette giorni precedenti. Invariato anche il dato di Trinitapoli, centro nel quale gli attualmente positivi sono 66, due in meno rispetto a quelli del 9 aprile. In discesa invece i numeri a Canusa di Puglia e San Ferdinando, centri nei quali gli attualmente positivi sono rispettivamente 126 e 63 a fronte dei 176 e 100 comunicati nella parte iniziale di aprile. Stabile il dato dei centri murgiani, 69 sono gli attualmente positivi a Minervino Murge, 38 a Spinazzola. Risalente ormai al 2 aprile, e infine l'ultima comunicazione del comune di Margherita di Savoia. Nella città del Sale, in tale data, i casi attivi erano 25.